Mondo 2, altra azienda che opera tutt'altro settore, questa azienda è un'azienda che si occupa di consulenza strategica in ambito operation e supply chain, loro avevano la necessità di ancora una volta monitorare le performance e noi partiamo sempre e condividiamo con voi spesso la parte diciamo di cruscottistica, tutte le dashboard di performance, marketing commerciale, perché alla fine quello che interessa alla direzione è sicuramente capire come sta andando la mia macchina commerciale, come posso migliorare le mie performance e come posso gestire anche tutta l'attività sia di lead generation, quindi generazione di nuove opportunità, sia di lead management, quindi della gestione dei contatti che io nel tempo ho sviluppato e sto mantenendo attivi. Quindi ancora una volta partiamo dal fondo, in realtà per ottenere queste dashboard, perché affinché questi cruscotti siano appopolati è ovviamente necessario avere i dati all'interno della piattaforma, per poterlo fare devo poter integrare tutti i canali che l'azienda usa per comunicare con l'esterno, sia in maniera diciamo uno a tanti, quindi dati dove ad esempio i canali social, sia anche uno a uno, come ad esempio può essere un canale whatsapp. Ok? Quindi partiamo dalla fine sapendo che all'inizio c'è un tema di adozione e utilizzo della piattaforma. In questo caso l'obiettivo qual era? Era avere maggior governo delle performance che il team faceva, il team commerciale faceva e avere maggiore capacità di segmentazione dei contatti. Ancora una volta spesso noi quando entriamo in alcune aziende vediamo che l'atavese dei contatti è composto da un nome, un cognome e magari la mail è la mail aziendale e quindi l'azienda in cui il contatto lavora, in cui il contatto opera. Questo permette delle segmentazioni veramente molto basiche se non nulle. L'obiettivo del marketing è riuscire a creare dei racconti che sono più specifici per l'interlocutore di riferimento, allora la necessità che ha il marketing è segmentare moltissimo il più possibile le varie audience, quindi per settore, per ruolo, vedremo tra un secondo per quali altri variabili. Questo permette di creare dei racconti che sono molto più pertinenti perché sono specifici per un certo tipo di settore o per un certo tipo di ruolo all'interno di quel settore. Allora se sono molto più specifici sono anche molti più interessanti, quindi sono più ingaggianti, quindi dall'altra parte il ritorno che ho in termini di interesse da parte dell'audience che io vado a ingaggiare sarà maggiore e quindi migliora la mia capacità di generare un contatto in target. Se invece rimango sempre in termini molto alti di comunicazione verso tutti, la mia capacità di essere ingaggiante diminuirà perché non sarò specifico verso nessun settore. In questo caso ancora una volta il loro primo obiettivo era capire quali erano i canali in cui generavano maggiori opportunità sia canali digitali ma anche canali non digitali perché loro sicuramente comunicavano attraverso tutti i canali digitali ma avevano anche una rete vendita. Avevano anche degli agenti che lavoravano per loro, avevano dei promoter, avevano dei partner, quindi monitorare qual è il canale sia digitale ma anche offline che mi produce maggiore opportunità mi permette di capire dove investire maggiormente perché il canale sta performando o dove devo riuscire a cambiare un pochino le regole del gioco perché è un canale in cui magari abbiamo investito ma che in quel momento non sta performando. Come vi dicevo prima abbiamo introdotto con loro una profilazione molto specifica del ruolo e dell'ambito anche in cui il contatto opera. Come abbiamo ottenuto questa profilazione? Ovviamente mappando quali erano i ruoli, gli ambiti, gli interesse e l'abbiamo ottenuto attraverso due modalità. Una manuale, quindi ogni volta che un commerciale incontrava un'altra persona doveva inserire il ruolo ma la grande maggioranza dei lead sono stati profilati attraverso dei form sul sito che andavano a chiedere delle informazioni man mano che le persone scaricavano dei contenuti o guardavano appunto dei contenuti pubblicati sul sito. In questo modo automaticamente vado ad aggiungere delle informazioni al mio profilo che mi permette poi di segmentare la popolazione attraverso tutta la direzione di un'azienda, tutti i responsabili degli acquisti o dell'amministrazione finanza e controllo. Stessa cosa abbiamo fatto rispetto alle dimensioni delle aziende e al settore merceologico. Allora il grande vantaggio è che io posso creare una lista di tutte le aziende che hanno un fatturato compreso tra i 2 e i 500 milioni che operano nel mondo della formazione e di queste aziende voglio parlare con il direttore dell'amministrazione finanza e controllo. Solo se ho i dati all'interno del CRM posso effettuare questo tipo di profilazione, se lo devo fare manualmente è un'attività che richiede uno sforzo incredibile, se io creo dei workflow come abbiamo visto prima che mi permettono di profilare nel tempo le persone che sono interessate a me, questo mi permette di creare la mia lista e su quella lista magari creo un evento specifico. Quindi è un'attività che richiede un po' di strategia all'inizio, un po' di automation per poter generare l'informazione ma che dopo diventa assolutamente preziosa. E ancora una volta, questo è un altro esempio di segmentazione delle aziende, ma non solo, mi permette anche di capire quali sono le aziende che sono più interessate a me, perché se vedo che ho una popolazione maggiore di aziende PMI da 0 a 5 milioni, ecco magari vedo che quello per me è un target sensibile. Qual è la mia offering rispetto ad un'azienda da 0 a 5 milioni? È coerente, è allineata, è vincente, oppure se non ce l'ho devo crearla perché vedo che le aziende che sono maggiormente diverse da me hanno quel tipo di, diciamo, di taglia. Ancora una volta, loro essendo una società di consulenza direzionale, spesso vogliono parlare con i ruoli apicali delle aziende, quindi loro sono molto interessati a parlare con la direzione, col management o con la proprietà. Sapere quanti direttori generali e di quali tipo di aziende hanno un database permette loro di capire se devono organizzare un evento su Bologna rispetto a alcuni direttori generali di alcune aziende, qual è il punto di partenza, qual è il database da cui possono attingere per poter creare gli inviti, monitorare quanti e quali permette ancora una volta di essere molto più specifici nelle varie attività. Per poi passare all'attività commerciale, se io riesco a monitorare all'interno della stessa piattaforma, se sono coerente rispetto al budget, se sono in linea rispetto al mio forecast, se sto crescendo o non sto crescendo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quindi quali sono le mie performance sia a livello di budget generale, ma anche a livello di settore specifico e di offering specifica, mi permette di capire se sono in linea o non sono in linea, se non sono in linea è perché non ho abbastanza opportunità e se non ho abbastanza opportunità è perché non ho abbastanza contatti da incontrare nel tempo, oppure non ho abbastanza opportunità chiuse perché la mia pipeline a un certo punto ha dei processi che si sono bloccati e che devo trovare un modo per sbloccarli. Monitorare il processo mi permette di capire chirurgicamente dove intervenire. L'azienda riesce a monitorare in tempo reale quali sono le percentuali di chiusura, quindi il loro forecast sul mese ovviamente viene monitorato costantemente, ma su base giornaliere riescono a capire quali sono le attività che devono sbloccare per poter raggiungere l'obiettivo del mese o del trimestre. Questo è possibile se solo se ancora una volta ho codificato il processo, ho monitorato le performance e so quali sono le leve che devo utilizzare o che la mia forza commerciale devo utilizzare per passare nella mia pipeline commerciale da uno step all'altro. Solo misurandolo posso capire dov'è che sono i miei colli di bottiglia. Posso ovviamente capire come dicevo prima quali sono i settori più forti in cui io sono attivo, più forti per me significa che sono più ricettivi rispetto ai miei servizi e quindi posso decidere se investire ulteriormente creando altre attività di cross sell o up sell sullo stesso settore oppure posso decidere se esistono dei settori che sono diciamo simili per tipologie di comportamento anche dei clienti e quindi posso utilizzare quell'esperienza fatta su un settore per ingaggiare un altro tipo di settore, quindi di aziende che appartengono a un altro tipo di settore. Quindi in sintesi attraverso HubSpot, attraverso tutti i dati che loro sono riusciti a creare nel tempo all'interno della piattaforma e che riescono a leggere e ad analizzare attraverso la parte di bruscottistica che ripeto mette insieme tutto il tema del marketing e in questo caso il tema commerciale, oggi sanno, l'azienda sa su quali canali è inutile investire e su quali canali invece, quali canali sono stati dismessi nel tempo perché non portavano risultati in termini di lead, di opportunità. Sanno esattamente con chi vogliono parlare, è ovvio che l'azienda, che in questo caso per la sfumatura è diversa, è ovvio che l'azienda sa con chi vuole parlare all'interno dell'azienda, ma l'informazione che loro hanno è quali sono, chi sono le persone che sono interessate a parlare con loro, che è leggermente diverso perché possono intercettare delle nicchie di mercato in termini di azienda o di ruoli che sono interessati ai loro servizi che fino al giorno prima non lo erano, lo possono fare perché monitorano e profilano il lead man mano che si crea. Hanno individuato e condividono le informazioni di vendita in modo tale che anche qui figure junior possono apprendere da figure senior quali sono i processi e quali sono le best practices per ogni singola fascia, attività del processo e quindi che possono crescere nel tempo. Hanno attività continuative che permettono di mantenere ingaggiate, quello che dicevo prima, le persone durante il corso dei mesi, quindi se una trattativa si blocca a un certo punto possono monitorare quando la persona è interessata nuovamente, quindi anche dopo sei mesi, quando si riattiva possono monitorare appunto questa azione e intervenire senza doverla gestire quotidianamente. Questo appunto ha permesso all'azienda di scalare la propria performance sia commerciale che marketing ma soprattutto ha permesso di guidarla nel tempo.